Come tutti ormai sapete Napoli Salernitana è stata posticipata da sabato a domenica sempre allo stesso orario e secondo me Enrico Caffarelli è giusto così e non riesco a capire le parole le frasi di questo giornalista del Corriere dello Sport che questa mattina ha rilasciato ha scritto questo articolo che andremo a menzionare. Ma prima però fatevi salutare vi ringrazio a tutti per i like per le iscrizioni per i commenti e vi invito a supportare questo video con un bel mi piace come fate sempre e per chi non mi conoscesse mi chiamo appunto Enrico Caffarelli e ti invito ad iscriverti mi farebbe molto piacere e ad attivare la campanellina se vuoi seguimi anche su Instagram ci chattiamo in privato in direct link in descrizione. Ragazzi non riesco a capire a volte la mentalità ottusa di certi giornalisti ma di certi anche opinionisti di certa di certi personaggi qual è il problema se spostano Napoli Salernitana da sabato a domenica. Ci potrebbero essere mille ragioni mille ma dopo un campionato così secondo me gli è dovuto a Napoli e alla squadra di Spalletti hanno dominato dall'inizio alla fine qual è il problema di un posticipo di un giorno? Quale? Perché devono fare queste polemiche? Perché? È normale che domenica c'è un'altra sfida Inter-Lazio e molto probabilmente se la Lazio non vincerà e quindi ci sono due risultati utili per il Napoli sempre se vince contro la Salernitana. La vittoria dell'Inter e il pareggio dell'Inter. In quel caso se il Napoli vincesse contro la Salernitana sarebbe scudetto, sarebbe l'apoteosi di una città, di un popolo intero che aspetta da più di 30 anni. Perché io devo sentire, devo leggere queste frasi su una testata giornalistica molto importante che io rispetto assolutamente però sentite queste frasi ragazzi e vi invito a lasciare un commento come fate sempre, è inutile dirvelo però in questo caso mi farebbe molto piacere e vediamo come la pensate. Io penso che in Napoli si merita questo posticipo a prescindere ordine pubblico, dirette televisive, problemi vari, quello che volete ma è normale che una partita del genere si debba, non dico in concomitanza ma a stretto orario nei confronti di un'altra partita che determina le sorti di un campionato. Ma per quale motivo dobbiamo essere bigotti? Perché? Perché io la penserei ugualmente così se fosse stato per la Roma? Magari, magari ragazzi, altro che. E quindi sentite questo giornalista che non nominerò per privacy però potete andarvelo a vedere tutti quanti su questa testata, su questo sito web appunto, e dice il rimbio del derby da parte di questore e prefetto è uno schiaffo alla democrazia e alle persone civili. Addirittura, addirittura stiamo parlando di una partita di calcio, di una partita di calcio ragazzi. Le motivazioni di ordine pubblico sono la foglia di fico per nascondere l'improvvisazione del paese. L'intelligence si è arresa ad un clima di paura di cui non c'è sentore. Ma quale clima di paura? Che lì stanno aspettando a festeggiare da una vita? Che per loro non è una cosa, diciamo, di tutti i giorni. Ovviamente, anche, mi ci metto io da romanista, ma come se fosse un lassiale, un fiorentino, un, che ne so, un ascolano. Vabbè, ora sto esagerando. Insomma, una persona che non è abituata a festeggiare è normale che sta al settimo cielo. E invece, magari, quelli del nord sono più abituati. E quindi è logico questa cosa. Le motivazioni legate all'ordine pubblico alla base dell'invio a domenica di Napoli-Sanernitana non sono... Vabbè, questo già l'ho letto. Il prefetto e il questore sono diventati gli arbitri del derby che potrebbe assegnare lo scudetto al Napoli. Gli arbitri del derby. Ma che cosa state dicendo? Che Napoli non ci ha avuto rivali quest'anno, ragazzi. Io poi faremo un video se andrà in porto, diciamo, il fatidico scudetto, sempre sì, ovviamente, perché non mai parlare prima. E vi dirò anche le motivazioni per il quale io sono contento che lo vinca a Napoli. Ve lo dirò. Voi pensiate a mia moglie che simpatizza Napoli. Non è soltanto per quello, ragazzi. Ci sono mille ragioni che poi andremo a vedere. E aspettate, insomma, l'evento. Poi, ogni anno dal 1898 c'è l'abitudine di festeggiare uno scudetto. Solo che stavolta se ne sono accorti improvvisamente ed hanno temuto che potesse accadere qualcosa di tragicamente epocale. Ma figlio mio, ma figlio mio, fattene una ragione. Fattene una ragione. Poi, l'improvvisazione di un paese non è Napoli incapace di darsi regole precise, sta dicendo di Napoli, che si rifugia in una scelta di comodo con cui schiaffeggia la democrazia e pare insulti chi è dotato del sacrosanto senso di civiltà. Ma non esageriamo, ragazzi. Non esageriamo. Ma io non riesco a capire proprio. Guarda, sarò strano io, per carità. Sarò strano io. Ma qual è il problema? Qual è il problema? Io non lo so, ragazzi. Non lo so. Stiamo parlando di calcio. Magari si poteva lamentare da sonne le televisioni per un ipotetico, diciamo, problema, che ne so, di palinsesto. Ma non lo so, perché alla fine, giocando alle 15, l'Inter e il Lazio c'è al mezzogiorno e 30, alla fine è uguale, penso, per le televisioni. Allora, poi dice, danneggiando i napoletani che hanno prenotato voli e alberghi per non perdersi questa specie d'avvento, costringendo i salernitani a starsene a casa, ignorando i diritti acquisiti dalla zona, appunto quello che dicevo io, e dalle tv sparse qua e là sulla terra, che nel libero mercato e in epoca non sospetta, hanno investito denaro in quantità incoraggianti per l'economia di un mondo che non è il terzo. Ma che cavolo dice questo? Cioè, paragona Napoli al terzo mondo, da quello che dico io, perché facendo riferimento, non lo so, non lo so, non ci voglio manco pensare, ragazzi, perché questo sta delirando, secondo me, per un posticipo. Ma quante partite hanno posticipato? Quante? Per qualsiasi ragione, per qualsiasi ragione, e adesso che stanno per vivere i tifosi napoletani un evento epocale, stanno facendo delle ripicche, come posso dire, dei vezzi, delle cose, delle bambinate, non mi viene nemmeno l'articolo l'aggettivo, perché io mi metto nei loro panni e quindi posso capire l'importanza di questa partitissima, Napoli-Salenitana. Se vinco la partita, vinco anche lo scudetto matematico, è logico che voglio festeggiare come Dio solo sa, come Cristo vuole. Parlo sempre bene, non sono blasfemi, per carità. Quindi, secondo me, questo giornalista, non lo so, non lo so dove ha preso tutte queste negatività, perché io vedo la gente felicissima di questo posticipo. Poi magari mi sto sbagliando, magari scrivetemelo sempre sotto, io sono sempre pronto a fare un passo indietro, ragazzi, non c'è problema. Però per me è giusto così, l'ho detto all'inizio, lo dico alla fine, in Napoli si merita questo posticipo per un'eventuale vittoria matematica dello scudetto, sempre se la Lazio non va a fare il colpaccio a San Siro contro l'Inter. E a quel punto non ci sono posticipi che tengano. Lascia un like a questo video per supportarlo, iscriviti al mio canale se ancora non l'hai fatto e attiva la campanellina, seguimi su Instagram per chattare in direct. Ti aspetto, ciao!